Ben ritrovati allo spazio delle previsioni nel tempo a cura di Meteo in Calabria.it Come anticipato nelle puntate precedenti, la nostra regione è interessata da un promontorio anticiclonico che ha favorito un deciso miglioramento e che continuerà a garantire tempo stabile fino a venerdì. È previsto però un possibile modesto e veloce peggioramento della giornata di sabato che dovrebbe interessare maggiormente la Calabria settentrionale. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Mercoledì, cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Tuttavia non si esclude la possibilità di momentanee coperture a causa del passaggio di nubi medio-alte. Temperature in lieve aumento. Giovedì, cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel corso della giornata, possibili coperture a caso del passaggio di nubi alte e stratificate, anche spesse, ma senza fenomeni. Temperature in ulteriore lieve aumento che risulteranno al di sopra delle medie del periodo. Ora analizziamo lo stato di mari e venti. Mercoledì, mari poco mossi con tendenza di aumento del moto ondoso. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Giovedì, mari generalmente mosse d'esclusione dal Golfo di Corigliano, che risulterà poco mosso. Venti moderati di Scirocco. E infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Metin Calabria. Per la puntata di oggi è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.